Lo so che siete qua per il titolo, la parola glamour attira l'attenzione anche di chi non è interessato alla fotografia di marrimonio. Se vi aspettate di vedere spose sexy o sposi a petto nudo, mi dispiace deludervi. In questo video vi voglio parlare della mia visione, della mia opinione riguardo al glamour nella fotografia di marrimonio e come sempre faccio voglio dare due o tre consigli agli sposi. Partiamo da un presupposto, cos'è la fotografia glamour? In breve, senza addentrarci perché non è questo il tema di questo video, è un genere fotografico che tende a esaltare la sensualità e il fascino del soggetto. Non è fotografia di nudo, comunque non per forza, e spesso il soggetto viene ritratto in pose più o meno provocanti, sensuali. Cosa c'entra tutto questo con la fotografia di marrimonio? A prima vista, niente. Però se ci riflettiamo un attimo, durante il marrimonio ci sarebbero gli spunti per realizzare delle fotografie con un taglio più glamour. Durante la preparazione degli sposi, oppure durante la sessione fotografica.